La spiaggia di Fiume Freddo Abbiamo ripulito tutto un tratto che festeggiava il fiume, la foce del fiume e abbiamo raccolto un bel po' di materiale Allora Francesco ci parli delle tue impressioni riguardo questa iniziativa, come l'hai trovata? L'iniziativa è sicuramente lodevole, perché i volontari di lega ambiente si sono adoperati per ripulire il tratto della riserva naturale del fiume Freddo E come si può vedere con un buon risultato, circa 20 se non più santi Avete anche trovato qui un copertone gigante Si spera che questo gesto serva quantomeno a sensibilizzare le persone che vengono qui normalmente a fare il bagno A evitare in futuro di lasciare i propri rifiuti Bastano dei piccolissimi gesti per evitare di dover poi arrivare a fare raccolte di questo genere Eh sì, qua si nota infatti quanto materiale è stato raccolto Paraurti di macchine, copertoni Quanti sacchi sono? Più o meno una ventina? Io penso una ventina di sacchi condominiali, sì Ok, grazie di tutto Con l'augurio di vedervi sempre più numerosi a questa iniziativa